Prego, mi presento anch'io Giuseppina Barsacchi, io sono il coordinatore del Polo di Pisa ma sono mancata per qualche ragione insomma alle iniziative precedenti e me ne scuso sia con il relatore che con voi e porto il saluto dell'Accademia dei Lincei che è promotrice di queste iniziative di sostegno agli insegnanti di ogni ordine grado, avrete visto il nostro nutrito programma del Polo di Pisa. Sono lieta di poter seguire almeno la coda di alcune di queste iniziative inclusa la conferenza di oggi e approfitto per ringraziare i relatori voi che siete qui e naturalmente come sempre il personale della scuola normale, la scuola normale tutta senza la quale non potremmo svolgere questa corposa attività e a tutti voi faccio i miei auguri e gli auguri dell'Accademia per il vostro lavoro importantissimo, importantissimo, nelle scuole con i nostri giovani ragazzi, figli, nipoti, bisnipoti e buon lavoro. Grazie. Sono i nuovi eroi. I nuovi eroi. Grazie. Dunque oggi il nostro incontro verterà sul pensiero filosofico di Michel de Montaigne, grande filosofo dell'autunno del Rinascimento e il nostro incontro di oggi è intitolato appunto Montaigne la coscienza critica del Rinascimento. Montaigne acquisisce, ha una posizione particolare nell'ambito filosofico del tardo cinquecento e in un certo senso non solo ne riassume del cinquecento intendo l'aspetto più significativo ma potremmo anche dire che nell'ambito filosofico la sua posizione si caratterizza per una spiccata attitudine a un pensiero che guarda molto avanti oltre il suo secolo tanto che nel corso dei secoli, la parola è proprio azzeccata, potremmo trovare tanti altri filosofi che si interessano a lui, che lo leggono, lo studiano, lo sollecitano perché si tratta veramente di un pensiero per dirla con Nice che fu un grande lettore di Montaigne, un pensiero veramente inattuale, apriva orizzonti e scenari largamente inattesi e largamente forse incompresi per il proprio tempo storico. A cominciare dal suo capolavoro filosofico che come voi sapete si intitola Essè, cioè Saggi. Questo testo che forse è l'unico che Montaigne scrisse perché scrisse un journal de voyage, cioè una sorta di resoconto del suo viaggio in Italia, scrisse delle lettere ovviamente che furono pubblicate ma la sua grande opera sono appunto i Saggi. Un capolavoro filosofico, dicevo, un po' particolare, per le ragioni che poi vi spiegherò andando avanti ovviamente, a cominciare dal titolo, cioè la scelta di un testo filosofico e la scelta del titolo appunto Essè, Saggi. Il testo esce nel 1580 presso Simon Millange e diciamo in una sorta di prima pubblicazione in due libri, cioè questa edizione del 1580 che è tuttavia corposa, è un'edizione in due libri. L'ultima edizione che al contrario è notevolmente accresciuta, viene pubblicata come saprete postuma, però in una variante molto significativa perché oltre a delle aggiunte manoscritte che Montaigne farà sul suo esemplare, verrà corredata di un intero terzo libro, quindi l'edizione postuma, quella cioè pubblicata nel 1595 dalla sua allieva, la Fie d'Alliance, come la chiamava Montaigne, la sua allieva Marie de Gournay, presenta come dire uno spaccato del pensiero di Montaigne molto più complesso, molto più integrato e oseremmo dire molto più rappresentativo del suo autore. Quindi nel 1595 l'uscita postuma sarà presso l'editore non più Simon Millange ma Abel Angelier. Ora, come dicevamo prima, il titolo stesso è un titolo inusitato perché racchiude un progetto filosofico inedito per il suo tempo storico e è un progetto filosofico scritto in prima persona. Certo, l'essere scritto in prima persona non è che lo rende eccessivamente originale, ci sono altri testi filosofici, anche se non molti in verità, scritti in prima persona ma a cominciare dal testo di Agostino, Abelardo, ce ne sono altri. Ma questo di Montaigne acquista uno spessore di grande rilievo perché con l'assunzione del titolo saggi, appunto, e se vuol dire saggi, Montaigne vuole assumere un carattere di prova, appunto di saggio, di esperimento del suo personale considerare il concetto di filosofia che vuol dire arte di vivere nella sua dimensione, nella sua prospettiva, insieme a uno sguardo, come dire, critico sulla ragione e i suoi poteri, tanto che per Montaigne si dovrà parlare di una debolezza della ragione umana, corredata però da un risvolto che riguarda la forza delle passioni, e in definitiva uno sguardo penetrante, acuto, su quella che Montaigne già chiamava l'humain condition, cioè la condizione umana. E tutto ciò va di pari passo con l'elaborazione di un concetto molto particolare che è quello di universale singolare, che è un'elaborazione forte da parte di Montaigne, spiccatamente originale, che Montaigne matura ed esprime soprattutto nel libro terzo, quindi nel libro che è stato aggiunto poi nell'edizione post, ma dopo il 1588, quella del 1595, e diciamo così contenuta in un saggio molto importante che si chiama Dieu repentir, del pentirsi, appunto del libro terzo e capitolo secondo. Cosa scriveva Montaigne? Tutta la filosofia morale si applica altrettanto bene a una vita comune e privata, che è una vita di più ricca sostanza. Ogni uomo porta la forma intera dell'umana condizione. È certo che in questo viaggio filosofico, nel cuore dell'antropologia e della storia, Montaigne elegge a sismografo e bussola dell'anima l'attitudine al dubbio, questo l'ho insegnato a scuola, lo sapete con tutta evidenza, l'attitudine al dubbio che vede l'unico atteggiamento critico dell'intelletto che ci salvaguardi, che salvaguardi ogni individuo dagli idola, dalla consuetudine e dai pregiudizi, che già secondo Montaigne, Protagora, aveva diciamo così visto e sottolineato come operante nella sua concezione della natura. Dice infatti Montaigne, Protagora dice che non c'è niente in natura se non il dubbio. Quindi la prima acquisizione che ci deriva da Montaigne da questa pagina è che il dubbio è secondo natura e soprattutto alla rinnovata formulazione che Montaigne attua dell'atteggiamento scettico con la formulazione del che cosa so. La scepsie elaborata dalla corrente appunto dello scetticismo è assunta da Montaigne ma al tempo stesso criticata perché lo scetticismo antico ai suoi occhi si rivela come estremamente nichilista, uno scetticismo che può portare l'individuo a una sorta di disperazione ignosologica ma soprattutto morale e uno scetticismo che peraltro secondo la sua analisi ricade o cade in una sorta di contraddizione perché queste sono cose che voi le insegnate a scuola, l'affermare di non sapere nulla già significa affermare qualche cosa. Quindi lo scetticismo cadrebbe in una sorta di contraddizione da cui non riuscirebbe a trovare una via d'uscita. Montaigne proprio per esorcizzare la contraddizione scettica cercherà una strada diversa, un metodo diverso, cioè cercherà di affermare un atteggiamento analogo però secondo un'interrogazione. Al posto di dire non so nulla come gli antichi scettici che appunto cadevano in contraddizione, la contraddizione logica, Montaigne cercherà di formulare lo stesso concetto con una domanda. La sua domanda è che cosa so, che cosa la ragione umana può sapere. E naturalmente dire che cosa so, che cosa la ragione umana può sapere è già un progetto filosofico. Un progetto filosofico che ai vostri occhi, alle vostre orecchie allenate, farà venire in mente un progetto postumo che apparterrà un altro filosofo importante, ovviamente con cui tutti ci siamo misurati, che ovviamente è Emanuele Kant. Esattamente come Emanuele Kant che leggeva Montaigne, perché Montaigne è una delle fonti anche di Kant, questa domanda che cosa so ne porterà, ne convoglierà almeno altri due che voi riconoscerete subito con facilità. Difatti al che cosa so Montaigne affiancherà una sorta di trilogia che Kant poi renderà famosa aggiungendo cioè altre due domande che cosa devo fare e che cosa posso sperare. In realtà Montaigne aggiungeva anche un'altra domanda, in realtà si tratta di una quarta domanda che Montaigne aggiungeva anche se in una maniera minore, ma che cosa posso dire? Investendo anche la problematica linguistica in questa metodologia del sapere che naturalmente acquisirà tutto il suo spessore filosofico anche negli anni successivi da parte di altri filosofi. E naturalmente dicendo che il dubbio è di natura però Montaigne affermava a suo modo una certezza, cioè quello di dare piena cittadinanza alla incertezza e al dubbio stesso, all'adozione di uno sguardo plurale ecco quindi una novità enorme che con Montaigne riscontriamo e lo vedremo meglio andando avanti perché adesso vi faccio una specie di pittura delle tematiche, poi cercheremo tempo a disposizione tiranno e poco però cercherò di spiegarvi meglio nei singoli aspetti diciamo ciò che stiamo adesso enucleando e quindi dicevo l'adozione di uno sguardo plurale perché il concetto di pluralità più di quello di relativismo appartiene a Montaigne perché bisogna chiarire molto bene bisogna chiarire come Montaigne è relativista fino a un certo punto, anzi forse è sbagliato dire che Montaigne è relativista perché bisogna dire che è pluralista perché dire pluralismo vuol dire molte cose in più e molte cose diverse rispetto a quelle che di solito i testi predicano quindi l'adozione di uno sguardo plurale è un modo di pensare con tutta evidenza non dogmatico emancipato dall'autorità filosofica e questo segna anche questo un distacco forte dalla filosofia classica del rinascimento, dall'autorità filosofica degli antichi ma anche di molti umanisti dice Montaigne che chiamava modern e su questo questa espressione modern ci sarebbe molto da riflettere perché il termine viene usato in modo molto parco negli esseri di Montaigne e ci sono poche occorrenze quattro occorrenze come aggettivo singolare due come aggettivo plurale e una sola come sostantivo plurale punto moderno a cui mi riferivo prima quindi è un uso come dire nuovo ma abbastanza parco che Montaigne ne fa moderne per disegnare ovviamente i suoi contemporanei che avevano fatto però della certezza e soprattutto dell'antropocentrismo acritico una sorta di nuovo idolum la sommità della catena dell'essere della scala nature della ragione prometeica promete che avevano fatto il centro cioè l'angelus novus sono tutta una terminologia questa è una terminologia che conoscete bene perché è tipica della filosofia del rinascimento ci aveva fatto cioè l'antropocentrismo rinascimentale dell'uomo un dio terreno padrone degli asti e del cosmo il mediatore universale tra cielo e terra cioè in questa descrizione molto efficace e molto come dire sottolineata si riconoscono tutti i luoghi comuni in senso filosofico ovviamente della filosofia del rinascimento Montaigne si mette in un atteggiamento molto critico rispetto a questa fenomenologia dell'umano che ovviamente non condivide e diciamo segna il distacco dalla filosofia del suo tempo gli esse cioè i saggi sono descritti da Montaigne come il solo libro di questa specie e in fondo volevano quindi proporsi un progetto molto ambizioso che era una sorta di progetto di una sorta di maturazione ma più di maturazione di educazione permanente della mente ecco se noi dovessimo riassumere brevemente il progetto filosofico ma anche pedagogico del del nuovo umanesimo di Montaigne del nuovo umanesimo di Montaigne noi potremmo già in prima approssimazione dire appunto in base a quello che ho già brevemente spiegato e indicato che si tratta di un progetto di formazione della mente un progetto di formazione della mente che per Montaigne non può fermarsi a un certo punto della vita umana perché l'humane condition è una continua metamorfosi e quindi questo processo della mente di educazione deve durare come diceva già Plutarco autore amatissimo da Montaigne deve durare tutta la vita l'educazione permanente un'educazione cioè che deve durare tutta la vita e uno dei saggi più famosi di Montaigne l'1.26 intitolato l'educazione dei fanciulli ci mostra e ci dimostra che il saggio stesso pur intitolandosi l'educazione di fanciulli in realtà è rivolta alla formazione completa dell'uomo una formazione ripeto che deve essere in itinere e deve durare tutta la vita quindi questa educazione permanente della mente è al tempo stesso un'educazione permanente dello sguardo che deve farsi e centripeto e centrifugo uno sguardo cioè che deve ritornare all'io al moi o je come dice Montaigne a se stesso con uno sguardo ovviamente critico e a volte anche impietoso dice Montaigne io mi descrivo cerco di descrivermi nudo vado fino ai miei muscoli i miei nervi la mia anima deve essere messa nudo quindi perché io possa capirmi Montaigne ci metterà anche come dire un pochino sull'avviso per questa ricerca dell'io questa ricerca del moi questa ricerca dell'anima se volete per usare una terminologia più alla page alla sua epoca è una impresa difficilissima e a volte disperata perché dice la conoscenza dell'io sfugge all'uomo come la sabbia nel pugno della mano quindi si tratta di problemi spinosi e difficili da cogliere in tutte le loro sfaccettature tanto per tanto più perché la conoscenza stessa dell'io è una conoscenza quasi impossibile tuttavia l'uomo deve provarci secondo Montaigne non deve come dire chiudersi in uno scetticismo nichilista ma pur sapendo che la sua intelligenza è limitata la sua ragione è limitata la sua esperienza è limitata deve cercare non di fermarsi come fosse un mus in pice dice Montaigne come se fosse un topo nella pece quindi per cui certo l'orizzonte di ricerca viene completamente chiuso ma deve porsi come come dire un uomo in proiezione deve cercare sempre se sarà sempre Montaigne a dirlo io spesso ripeto le sue parole quel paese al di là quel valore regolativo che fa della mia ricerca una ricerca sensata una vera e propria zetetica come dicevano i suoi autori che stava studiando quindi lo sguardo deve essere centripeto deve andare all'interno dell'uomo per potersi conoscere anche se la conoscenza dell'uomo è una delle imprese più difficili per quindi entrare dentro di sé ma anche centrifugo perché nel momento in cui l'uomo va presso di sé non deve rimanere in un solipsismo in una chiusura autarchica quasi ma deve rinnovare il proprio sguardo per quanto gli è possibile per uscire da sé per adare verso il mondo per riacquistare dice Montaigne uno sguardo che sia civile e legittimo nei confronti della società del suo tempo e nei confronti della politica del suo tempo che faceva abbastanza orrore a Montaigne perché era una società politica e un tipo di storia completamente compromesso soprattutto come ben sapete dalle guerre civili uno stato dilaniato che era quello di Francia sotto il peso di guerre civili che non finivano più durarono moltissimo lo sapete e Montaigne da questo punto di vista esattamente come Erasmo era un po' ossessionato dal problema della guerra l'ossessione di Erasmo era a più largo raggio nel senso che era questa guerra generalizzata che colpiva il mondo intero le popolazioni gli strati sociali Montaigne ovviamente ha presente lo stesso il problema è ovvio ma diciamo forse è più concentrato sul suo tempo storico in quanto lo vede veramente come il suo periodo come lo chiama lo definisce di more public di morte pubblica non c'è più niente non c'è una dimensione politica associativa comunitaria in nostra società tanto che Montaigne poi lo vedremo nei momenti in cui riabiliterà il selvaggio d'America quel selvaggio che viene descritto con toni mostruosi bestiali eccetera cercherà di riabilitarlo per dare nuovi paradigmi all'idea di nuovo umanesimo in quel momento Montaigne ci dirà che siamo noi occidentali noi che pensiamo di possedere la vera ragione di possedere la vera verità di possedere la vera religione siamo noi che in realtà saremmo da considerare alla luce della natura i veri barbari e non quei presunti barbari del nuovo mondo che noi chiamiamo barbari perché non li riteniamo civilizzati in realtà vivendo secondo natura e secondo la natura è uguale alla ragione quei popoli sono ben più civilizzati di noi e noi siamo i veri barbari non li chiamiamo barbari diceva Montaigne solo perché non li conosciamo e qui si apre tutto questo spaccato dello sguardo sull'altro sull'altro mondo sull'altro l'altro il diverso e la riabilitazione del diverso come non più mostruoso è una riflessione di Montaigne lo vedremo se ci sarà tempo se mai nel dibattito ne potremo parlare sarò molto contenta questa decostruzione del concetto di mostruosità e la nuova acquisizione del del cosiddetto mostro come invece una forma secondo natura noi non conosciamo la natura e ignoriamo che la natura è una molteplicità infinita e vicissitudine di forme noi non le conosciamo e se una forma differisce dalla nostra diciamo che è una forma diversa quindi mostruosa Montaigne non può accettare questa deduzione e ricostruisce un ragionamento preciso intorno a questo concetto che ripeto forse avrò tempo di parlarvene io ma se no molto con molta probabilità potremmo parlarne durante il dibattito quindi un nuovo sguardo entrare in sé per uscire da sé cercare di rieducare il proprio sguardo per assumere un atteggiamento una capacità divisione del mondo uno sguardo che sia legittimo e civile sulla storia la società e la politica ecco e naturalmente questo è ben facile a intuirlo questo tirocinio lungo tirocinio una prova difficile prova è il titolo stesso dei suoi saggi che questo vogliono dire tentativi provi questo tirocinio presuppone che cosa il possesso e l'esercizio di un metodo preciso particolare che sia un metodo di liberazione del pensiero dagli idola dei sistemi filosofici della razio classica e soprattutto delle rappresentazioni chiuse del soggetto e del mondo fisse e immutabili e questo tipo di tirocinio include anche un altro aspetto cioè una sorta di emancipazione da una certa armonia una certa armonia della speculazione che tollera perché la neutralizza scusate il concetto stesso di concordia discors escludendo cioè dal proprio interno come sbagliato e filosoficamente non ammissibile il concetto stesso di contrarietà che noi potremmo tradurre anche con contraddizione montegni insiste invece sull'importanza della contraddizione sulla dialettica addirittura della contraddizione e cerca di valutare quanto l'antropologia umana stessa sia come dire invasa da questa idea della contrarietà e bisogna quindi cercare di emanciparsi soprattutto da che cosa dall'intolleranza ecco qua dall'intolleranza a cui porta l'adozione della certezza l'assenza del dubbio la come dire la certezza della certezza ecco uno degli spauracchi concettuali che montaigne cerca di evitare e che vede come un grande ostacolo sulla via dell'emancipazione dall'idola della razza classica e appunto il risvolto dell'intolleranza che il pensiero della certezza che quindi è un pensiero dogmatico conferisce all'individuo teme come la peste montaigne appunto questa certezza idolatra proprio perché la vede come fonte dell'intolleranza e vedremo invece al contrario montaigne cosa ci dice sulla necessità di adottare appunto come metodo e come attitudine mentale il principio della tolleranza quindi questo metodo come potete ben capire è un metodo che non investe un unico piano dell'essere ma cerca di rivestire nella sua nella loro complessità nella sua complessità tutti i piani dell'essere cioè l'ontologia la teoria della conoscenza la morale che è anche individuale ma per montaigne lo vedremo è un'etica comunitaria fino a spingersi alla cosmologia e all'antropologia antropologia avevamo accennato forse è la più scontata da questo punto di vista e quindi montaigne cercherà di ricostituire il vasto spettro del diciamo di quello della sua della sua argomentazione cercando di costruire non tanto una biografia filosofica perché chi dice che gli esseri cioè saggi sono una biografia filosofica sbagliano solo per il fatto che si fermano all'adozione della prima persona in realtà montaigne ci dà secondo i canoni classici proprio un'idea una prova un esperimento di una antibiografia filosofica perché è contro i canoni classici della biografia filosofica non risponde ai canoni diciamo strutturanti e specifici della biografia filosofica tanto che montaigne li chiamerà scusate gli oggetti della propria riflessione appunto di questa antibiografia filosofica scusate il termine un po forte ma montaigne li chiamerà gli escrementi di un vecchio spirito cioè non dà troppa importanza alle sue riflessioni non le non cerca di valorizzarle come fosse un dio ispirato dice che in fondo sono dei dei vecchi degli escrementi di un vecchio spirito quindi cerca anche un po di come dire di togliere quella quella dignità che invece hanno a tutto tondo e questo ce lo dice nel capitolo della vanità che certamente è una metafora molto incisiva e naturalmente è una metafora molto dissacrante che sposta l'accento sull'investigazione del pensiero processo che li produce è chiaro che è un tentativo proprio per riconcentrarsi sul processo e non tanto sul risultato anche se il risultato è enorme come ci renderemo conto andrando avanti nel nostro incontro e perché poi tutto ciò risulta di grande importanza perché questo modo di configurare il problema presenta ulteriori risvolti e uno di questi avrà una ripercussione enorme per esempio sul rapporto tra teologia e filosofia un rapporto molto forte un rapporto molto sentito al proprio tempo se non altro per la presenza della censura e per la forte pressione della chiesa di roma come ben sapete e quindi questo modo di procedere rilancia il rapporto tra teologia e filosofia sotto una luce del tutto nuova montegno come in parte aveva fatto anche bruno anzi aveva fatto anche bruno bruno non gli riuscirà purtroppo a montegno gli riesce nel momento in cui montegno viene viene chiamato durante il suo voyage in italia dunque allora montegno a un certo punto della sua vita 1580 decide di fare come tutti i nobili dell'epoca un viaggio in italia sapete che rientrava nelle come dire nelle prerogative dei nobili di formarsi l'italia alla culla del rinascimento alla cura dell'umanesimo e c'era questa curiosità di andare in italia e montegno come tutti gli altri buoni filosofi stranieri fa questo viaggio in italia passa un po per delle stazioni intermedie e naturalmente viaggia per l'italia sceglie i paesi più significativi che dal suo punto di vista non più sullecitanti dal punto di vista culturale va anche a venezia lo stato della libertà quel tanto celebrato stato della libertà da parte della letteratura coeva cioè voi sapete bodin la boesi contarini tanti filosofi del rinascimento avevano esaltato il governo di venezia che si era un governo se volete aristocratico ma era un governo soprattutto misto in cui vigeva la pace sociale che era divenuto il rifugio degli eretici in cui c'era la tolleranza religiosa quindi venezia il il mito e il mito della libertà erano tutt'uno tant'è vero che si parla di mitologia venezianista tutto si coagula intorno quest'idea del piccolo stato venezia che è riuscita a mantenere il cuore pulsante della libertà va a venezia montegno figuratevi l'aveva sognata l'aveva agognata il suo amico fraterno la boesina aveva parlato sulla in quel pamflet della servitude volontaire se se mi capiterà ve ne parlerò perché è un test interessantissimo ve lo consiglio compratelo perché c'è tanto da imparare piccolissimo 60 pagine tra l'altro qualche anno fa l'hanno recensito tutti i giornali perché l'hanno riscoperto mi fa morire da ridere poi dopo a microfoni spenti vi dirò perché mi fanno morire da ridere non lo posso dire adesso pubblicamente non sta bene ecco quindi visita venezia con questo spirito di uno stato che è riuscita a conservare nel presente storico non nell'antichità nel presente storico quest'idea formatrice e vivificatrice della libertà in verità montegno era anche una cosa che un pochino venezia nella prima visita la deluso e pensava di ritornarci dice se era riproposto scrive nel journal de voyage pensava di ritornarci dicendo pur la riconnetto per riconoscerla finalmente perché si era fatto un'idea precisa di di venezia appunto con tutto il carico della mitologia venezianista che diciamo che aveva contribuito ad alimentare scende arriva a roma a roma fa altre tappe adesso non mi posso fermare che il tempo è tiranno purtroppo e arriva a roma a roma naturalmente sequestrano i suoi bagagli aprono per vedere quali libri aveva con sé montegno scrive meno male che passando per la germania non avevo comprato libri di eretici altrimenti mi avrebbero croce fisso come un eretico e gli sequestrano i saggi per censurarli per fare delle animadversiones perciò naturalmente gli esperti del settore i consultores come li chiamavano erano pronti alle loro censure e montenghi dice sempre nel journal de voyage che prima di ripartire gli furono gli furono restituiti i saggi censurati lui indica c'è sei censure in realtà erano già state pubblicate qualche anno fa le censure sono molte di più molte di più sono data la vaticana ne ho corretta anche qualcuna perché in realtà la trascrizione era sbagliata diciamo che l'autore che ha trovato la censura completa è stato un autore che si chiama godmann a cui si deve tutto l'onore tutta la riverenza e tutta la stima del mondo perché l'ha trovato in un faldone di censure così che montegni ci è finito per caso quindi si deve riconoscere tutto il valore che merita però purtroppo nella sua trascrizione aveva fatto qualche errore e ce n'era uno in verità macroscopico perché aveva scritto l'importanza delle religioni cioè la censura stigmatizzava in montegni un passo in cui montegni avrebbe scritto l'importanza delle religioni in realtà la censura scriveva come aveva scritto montegni l'impostura delle religioni quindi lì è stato un quiproquo un po pesante però insomma abbiamo corretto non è successo niente e gli furono restituiti quindi i saggi censurati con la preghiera con la preghiera di insomma provvedere di correggere ritornati in patria caro montegni devi correggere determinati aspetti per esempio l'uso della parola fortuna che tu la ripeti troppo spesso sapete la parola fortuna era completamente pagana agli occhi della censura romana completamente pagana e soprattutto era pericolosa perché sostituiva un altro termine importante che invece c'era nella nella ideologia cattolico ovviamente che era quella di provvidenza cioè fortuna faceva paura perché secondo la censura e i censori si metteva al posto quindi era un cattivo supplemento della parola della parola provvidenza che non andava assolutamente messa da parentesi come stava facendo montegni ma ce n'erano tante altre di per esempio montegni dichiarava che gli animali non era vero che gli animali fossero inferiori agli uomo e quindi questa catena dell'essere questa catena sommità delle creature in cui l'uomo compariva sopra ogni altra creatura era un idolum dell'uomo stesso cioè l'uomo che preso dalla follia di se stesso aveva eletto se stesso al di sopra di tutte le creature montegni per decostruire questo idolum questo mostrum perché è mostro in un altro senso questo cattivo concetto che porta l'uomo ad errare aveva cercato al contrario di innalzare la bestia cioè aveva cercato di fare un'analisi molto precisa del mondo animale e sull'onda lunga di Plutarco aveva cercato di restituire l'idea che l'animale non fosse affatto al di sotto dell'uomo ma che pareggiasse con lui per diciamo il proprio intelletto tant'è vero l'opuscoletto morale di Plutarco si intitolava lo dico in italiano se se gli animali hanno la stessa intelligenza degli uomini la risposta era sì da parte di Plutarco sarà sì da parte di montegni ci sono ovviamente delle poi andando avanti se farò in tempo cercherò di dirvi gli esempi precisi e e e tutto questo è non solo un decostruire un'immagine teleologica della natura sul modello stoico nel senso che se vi ricordate gli stoici avevano detto che insomma la natura era scopo dell'uomo quindi era fatta per l'uomo e quindi l'uomo era la sommità del creato quindi non solo l'obiettivo critico era questo ma era soprattutto l'obiettivo critico di colpire la presunzione umana tale per cui questa ragione diventa una ragione illimitata e quindi diventa prosuntuosa quindi diventa la certezza della certezza quindi diventa dogmatica quindi diventa intollerante la posta in paglio era altissima la posta in paglio era altissima e quindi per esempio un'altra un'altra frase che era stata censurata era quella di un capitolo che riguardava il suicidio montegni in un capitolo molto interessante che si intitola costumi dell'isola di cea aveva guardato alle ragioni pro e contro il suicidio ma si capeva bene dove pendeva l'asse della sua bilancia tant'è vero che la censura l'aveva stigmatizzato dice che è bene l'ammazzare se stesso scrive la censura dice che è bene l'ammazzare se stesso e quindi c'erano diversi punti critici che diciamo facevano facevano un po questione e diciamo la censura ha invitato montegni a correggersi montegni per tutta risposta non ha corretto mai una parola e se l'ha anche motivato cioè ha detto io aggiungo se mai non correggo lui non si è mai corretto su quei punti specifici però ha fatto una cosa che riguarda appunto il rapporto teologia filosofia non è che sia andata oltre sono rimasta sempre lì dirà cioè che i censori hanno assunto il punto di vista dei teologi lui è un filosofo non è un teologo non ha né la forza né la preparazione né gli occhi da teologo quindi i suoi ragionamenti sono filosofici lui dice puramente i men puramenti puramente ma laici che non hanno niente da mescolare con la parola sacra si tratta dice montegno le diur men il dire umano che non ha niente a che fare con la parola sacra o gli argomenti sacri dunque quindi la filosofia e la teologia devono rimanere separati non devono eh assommare o incrociare i loro percorsi quindi io ho parlato da filosofo tu sei teologo non puoi scendere sul mio campo se scendi sul mio campo devi scendere con le armi della filosofia non della teologia così io non posso entrare nel tuo campo non posso entrare nel campo della teologia con armi da filosofo quindi la separazione eh qui si ipotizza la separazione e se vi ricordate non so il professor ciliberto credo che abbia fatto qualcosa del processo non so se vi ha letto qualche passo degli atti almeno qualche altro ehm bruno spesso diranno io ho parlato da filosofo non da teologo a lui è andata male a montegna è andata molto meglio ma montegna è andata molto meglio perché certi concetti anche molto come dire angagé impegnativi tra virgolette pericolosi per il proprio tempo storico che lo esponevano la censura in maniera inevitabile montegna l'aveva detto l'aveva saputo dire al di là di tutto con un altro stile cioè aveva adottato quel metodo che erasmo aveva insegnato aveva fatto suo di cui ci parla anche bruno in verità il metodo silenico cioè bruno parlando del proprio maestro erasmo dice sì io faccio proprio come erasmo ho imparato a giocare con i sileni però è stato bravo fino a un certo punto perché è stato troppo esplicito montegna è stato più coperto a volte è stato è stato meno come dire è stato più abile da questo punto di vista è stato più dissimulatore ma in senso buono la dissimulazione come pratica la dissimulazione onesta voi sapete la differenza della simulazione dissimulazione la simulazione la bugia la menzogna la dissimulazione è la pratica difensiva per poter vivere in un secolo di ferro è quello che mi copre che che mi espone non che mi fa mentire ma mi fa coprire per questo si chiama dissimulazione onesta perché infine è una strategia retorica nel momento che parlo retorica della scrittura nel momento che scrivo del soggetto che vuol salvaguardarsi montagna è stato molto più bravo adottato veramente bene il metodo silenico adottare il metodo silenico che vuol dire usare appunto i sileni con abilità vi ricordate i sileni ce ne parlava già platone i sileni del cibiade c'è un adagio d'erasma un edagio erasmiano importantissimo intitolato appunto i sileni del cibiade che dovreste far leggere i vostri scolari perché di una attualità e di una come dire di una forza enorme erano delle statuette piccole statuette doppie brutte repellenti al proprio esterno ma nel proprio interno avevano racchiudevano nascondevano anche anzi i più grandi tesori l'abilità di chi li guardava doveva consistere nel saperli aprire cioè andare al di là dell'apparenza perché avevamo il brutto fuori ma il bello del dentro erano i più ricchi tesori quindi questa idea di un pensiero complesso in cui avere la forza di comprendere che spesso l'esterno non corrisponde all'interno che c'è la forma e la sostanza c'è l'intus e c'è c'è il dentro c'è il fuori c'è questa duplicità di un pensiero che in certi casi può essere anche utile può essere anche come dire un positivo nel caso che appunto ne parlavamo due secondi fa nel caso la dissimulazione anesta mi aiuta ad adattare una pratica per coprirmi cioè per di fronte a un un secolo corrotto un secolo di ferro perché come ben sapete l'idea che il rinascimento sia un secolo d'oro era un'idea che è stata come di partagedere ebrei francesi condivisa da molti filosofi rinascimentali ma era un'autodefinizione lo sapete benissimo ciò e quindi per molti autori rinascimentali si trattava in realtà di un secolo di ferro pieno di guerre e quindi per poter camminare come dicevano stefano guazzo calzato tra le spine io dovevo adottare una pratica difensiva nel mio comportamento quando scrivo quando parlo montagna è stato un maestro di questo di questa pratica ha saputo fare meglio di tutti perché ha detto delle cose terribili qualche volta la censura si è accorta ma qualche volta la censura non se ne è accorta e ha lasciato come dire ha lasciato in operoso quello che invece poi ha germinato dopo perché se ne è accorto russo se ne è accorto descart pure ma soprattutto russo se ne è accorto poi nice in una maniera enorme se ne è accorto cant se ne è accorto fine nostri con se ne è accorto sciascia che ha scritto delle pagine bellissime sapete che montagna è uno dei suoi autori privilegiati e preferiti anche nel caso di sciascia autori francesi ma con particolare riferimento a montagna che amava molto quindi è molto complessa è molto complessa questa come dire quest'attitudine questo metodo di cui montaigne si sta sta costruendo tutte le tappe e tutti diciamo così i pezzi e quindi dicevamo qui un nuovo modo di guardare il rapporto tra filosofia e teologia che è un nuovo modo di di guardare un rapporto uguale tra ragione fede come benintuite e però anche guardare con con altri occhi non perché montagna abbia fatto per primo ovviamente ma con altri occhi come aveva fatto per esempio anche machiavelli guardare come con altri occhi la genesi umana delle religioni perché molto spesso la genesi della della religione è umana e qui si apriva certamente uno spaccato che avrebbe fatto tremare i polsi a molti individui e anche soprattutto e questa è una storia vecchia quella degli arcana imperi di tacito e anche quella della funzione politica della religione cioè quando la religione è servita come la boesie dirà gar core come scudo come scudo del potere e negli arcana imperi la religione è uno degli strumenti per poter governare e per poter conservare il potere purtroppo c'è stato un uso molteplice di questo di questo atteggiamento umano di questo sentimento come lo volete chiamare e naturalmente con tutti tutte le strategie per poterla conservare tanto che montaigne dirà a un certo punto tut polis a un die a sat et ogni forma politica a un dio a cui pensa tanto per farvi vedere il rapporto tra politica e religione quanto fosse ossia forte e quindi ripeto la genesi umana delle religioni il ruolo politico la razionalità umana per quanto è possibile l'uomo ha dei confini degli orizzonti ben precisi la riabilitazione della ragione animale abbiamo visto poco prima qualche elemento in realtà sarebbe molto di più da dire spero di poterlo fare ma dubito e naturalmente il concetto stesso di dignità umana perché quello che poi emergerà dall'analisi un po spietata di montegni è quello della miseria onminis e la dignitas degli animali cioè della miseria dell'uomo e la dignità degli animali cioè avviene un chiasmo miracoloso proprio uno scambio delle parti uno scambio delle parti tanto per cui il vero miserevole quello che è sotto nella catena dell'essere molto probabilmente l'uomo e non l'animale che l'uomo invece ha messo sotto di lui e però anche un aspetto molto importante dal punto di vista filosofico che tanto ci ha fatto riflettere è anche la funzione dell'immaginazione in montegna la funzione dell'immaginazione diventa non solo l'oggetto di qualche capitolo uno di questi si chiama appunto della forza dell'immaginazione e la prima fase è fortis immaginatio generat casum una forte immaginazione genera l'evento e di far vedere poi e far vedere poi il potere di questa immaginazione non solo a livello della conoscenza non solo a livello della morale ma a livello della storia e a livello della politica perché poi ci sarà anche un progetto appena bozzato da montegna nel saggio sull'amicizia appena bozzato da montegna ma sicuramente un progetto che gli nasce proprio da una giusta configurazione dell'immaginazione dei suoi poteri che sono soprattutto che soprattutto l'idea della possibilità l'idea della possibilità e la categoria del futuro l'idea della possibilità e il concetto del futuro se si leggono queste pagine che monta in consacra l'immaginazione vanno tutti in questa tutte in questa direzione l'idea della possibilità e l'idea del futuro e allora ci sorprendiamo molto quando qualche studioso di montegna anche molto accreditato molto bravo ha potuto dire che montegna in qualche modo ha configurato un concetto di storia circolare e montegna in un certo senso è uno di quei filosofi come tanti che avete sentito nominare conoscete che chiude la storia purtroppo devo dire niente di più falso a livello filologico proprio a livello testuale di montegna perché se c'è un filosofo che guarda la progettualità cosciente e diciamo non solo inneggia ma ne fa proprio una sorta di comandamento laico l'idea della possibilità è proprio montegna e questa idea nasce dalle sue pagine certo aggiunge se noi scambiamo il possibile e lo facciamo diventare impossibile perché è inusitato cioè non è nei nostri usi certo tutto quello che non è nei nostri usi sarà impossibile e quindi è chiaro che il concetto di possibilità trova tutte le strade chiuse montegna stigmatizzerà in 1.23 capitolo della consuetudine il potere nefasto della consuetudine nel nostro modo di pensare nella vita degli uomini nella morale siamo stati abituati sempre così è la caverna platonica è il filtro di circe è il vileno di mitridate mitridate beveva un po di vileno al giorno poi alla fine si era mitridatizzato cioè non morì perché un po alla volta esattamente come la consuetudine che entra in noi piano piano ci rende un altro tant'è vero che già ci ricerone nel definibus aveva scritto che la 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 consuetudine cioè l'abitudine era tale cioè diventava talmente potente da essere una seconda natura e noi viviamo tutti in questa seconda natura veniamo in viviamo in ebetiti nel sonno della consuetudine viviamo in un sonno eterno da minorenni ci diceva la boesi nel suo pamflet della servitù volontaria sulla servitù volontaria su cui vi vorrei dire veramente qualcosa perché ne varrebbe proprio la pena scusate mi devo orienta e così tardi e quindi seconda natura e letargo è di eterni minorenni di eterni minorenni questa idea dell'eterno minorenne vi ricordate benissimo sarà ripresa poi da cante nella risposta alla domanda cos'è l'illuminismo quando dirà che l'illuminismo è l'uscita dalle dande no e dallo stato di minorità ma quest'idea che bisogna imparare a camminare da soli che bisogna tenersi forti sulle proprie gambe quindi non affidarsi l'autorità degli altri l'aveva bene esplicitato montegni facendo ricorso per altra seneca sempre in 1 26 l'educazione dei fanciulli ci impariamo a camminare da soli come ci insegna seneca le lettere lucidio ma poi aggiungerà sapere aude abbi il coraggio altro che canta lo troviamo in montegni sapere aude diceva montegni comincia perché la vita marcia dobbiamo cominciare dobbiamo cominciare perché la vita è veloce e la vita è troppo veloce e la nostra durata è quella che è quindi dicevamo questo discorso estremamente interessante che montegni fa sull'immaginazione e dire sull'immaginazione abbiamo visto sul concetto di possibilità sulle idee del futuro ma tutte le volte che noi parliamo di immaginazione e i contemporanei di montegni lo facevano ci parlavano anche del miracoloso non solo del concetto di mostro mostruosità ma anche il concetto di miracolo ci aveva provato officino aveva detto qualcosa aveva provato a grippa aveva detto qualcosa però sarà montegni che lo dice molto seriamente dopo una serie di esempi che fa che ci fanno anche un po sorridere a un certo punto nel suo testo sempre lo stesso 1 21 della forza dell'immaginazione dirà alcuni dicono che le piaghe di re dagoberto e le stimmate di francesco sono dovute alla forza dell'immaginazione dire questo vuol dire sottrarre sottrarre il fenomeno dal sacro dall'investitura divina e vuol dire dare un potere enorme alla psicosomatica in questo saggio sull'immaginazione di fatti diventa centrale il rapporto tra il corpo e lo spirito e sul sul reciproco influenzarsi quanto lo spirito può lasciare i suoi segni sul corpo e quanto il corpo può lasciare i suoi segni sullo spirito quindi l'ambito del miracoloso è un ambito come dire molto delicato lo immaginate e naturalmente come aveva fatto il suo amico la boesi dirà che molti miracoli non sono ovviamente tali poi dirà anche la chiesa ci sta molto attenta ovviamente però insomma è uno sguardo naturalistico che montai butta su questo mondo e la nostra ignoranza dice che ci fa gridare al miracolo se noi sapessimo come quel processo materialmente avviene probabilmente ne daremmo una ragione una ragione scientifica in fondo tutta la magia del rinascimento va intesa e letta in questo modo al di là della magia nera lasciamola da parte ma la magia bianca era una sorta di protoscienza cioè i cosiddetti maghi rinascimentali erano coloro che conoscendo i processi naturali anticipavano i risultati e chi guardava questo ridava lo scandalo alla meraviglia insomma non sapeva non conosceva il processo quindi il protoscienziato che era in grado di entrare nei segreti della natura e di anticipare i risultati per la conoscenza è chiaro che arrivava a dei risultati sbalorditivi quindi abbiamo detto anche il miracoloso ma anche il 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 punto il miracolo e tutto ciò che gli sta intorno e gli sta intorno per un altro fenomeno molto forte nel rinascimento che ben conoscete che è il fenomeno della stregoneria fenomeno i proglom stregoneschi sapete che jean bodin scrisse autore pregevolissimo autore dei sette libri sullo stato i sei libri scusate fanno aggiunto uno i sei libri sullo stato e alla fine di questo testo ma in particolare dopo aver scritto questo testo scrive un altro testo che insomma non è tanto in linea con quest'illuminismo giuridico di cui ci dà prova in questi sei libri sullo stato scrive una demonomanie des sorcières la demonomania degli degli stregoni e alla fine mette una rifiutazione de jean vir che era un un allievo di agrippa il famoso mago del rinascimento e in cui insomma sosteneva che la stregoneria esisteva e andava perseguitata in maniera forte un filosofo della grandezza della lucidità di jean bodin montaigne in un saggio famoso che sentito agli zoppi libro terzo saggio undicesimo che piacque tanto a sciascia tanto che ne ha fatto per sellerio un piccolo libretto se avete voglia andate a vederlo lo comprate e gli zoppi curati da sciascia nella traduzione della garavini che sarebbe questo saggio di cui adesso vi comincio a cui mi alludo in questo momento di montaigne scrisse che le streghe del mio vicinato corrono pericolo di vita perché qualche nuovo autore ha dato corpo ai loro sogni cioè vuol dire qualche nuovo autore adesso ha voluto farci credere che la stregoneria esistesse davvero queste poverette queste vecchiarelle sono specialmente vecchiarelle queste persone sono al contrario spesso gente persone malate di malinconia sono delle malate non sono streghe ammettono di esserlo solo perché sono isteriche perché sono malate voi sapete che la malinconia è stato uno dei degli stati affettivi emozionali dell'uomo più studiati sin dall'entechità classica vi ricordate aristotele ne fa oggetto di uno dei problemi fondamentali il malinconico è l'uomo di genio no tutti gli uomini sono malinconici ma la malinconia può portare alla follia può portare alla malattia le streghe sono delle vecchiarelle pazze di ravir delle sono malate allora concludere a montaigne non diamo loro l'elleboro non diamo loro il fuoco scusate il fuoco cioè non le bruciamo ma diamo loro l'elleboro curiamole è chiaro dice se prendi una persona che dici strega la sottometti alla tortura e dopo tante torture è chiaro che pur di non essere più torturata dirà di essere un'assassina ma il fatto di essere reo confesso non è una prova perché preferirebbero morire piuttosto che morire ogni volta di dolore questo saggio questo saggio di montaigne questo capitolo di montaigne molto importante perché oltre essere una critica alla tortura è una critica anche alla pena di morte e perché è una critica anche la pena di morte perché poco prima poco prima di averci parlato del fenomeno delle streghe montaigne ci parla di un processo famosissima sui tempi che avrete visto anche al cinema perché mi hanno fatto un film con gerardo de pardieu intitolato il ritorno di martin guerre e parlerà in poche righe di un processo famosissimo un processo per sostituzione di persona di uno che si fa credere di essere un altro il quale altro era scappato quindi prende il suo posto e montaigne in pochissime righe condensa l'assurdità di questo processo e dice alla fine la corte era in grande perplessità la corte ha fatto delle accuse pazzesche avrebbe dovuto dire non ci capisco niente e avrebbe dovuto sospendere la sentenza perché per mandare a morte chi che sia ci vogliono prove più chiare della luce di mezzogiorno dice montaigne e lo diceva vir quindi in questo caso riprende vir e la ragione umana queste prove non le possiede questo processo martin guerre è un processo molto molto interessante perché si parla di un ve lo racconto un po così si allenta anche la tensione emotiva anche da parte vostra perché ascoltate vi vedo che ascoltate quindi non vorrei nemmeno stancarvi troppo e si tratta di un martin guerre appunto un giovane che scappa dal suo paese e per 12 anni non sanno più non sa più niente nessuna notizia di lui finché un giorno un nuovo venuto dice la sentenza un nuovo venuto arriva a quel paese artenga e dice di essere martin guerre sembrava uguale aveva le stesse voglie sulla faccia c'è stata una descrizione bellissima nella nella sentenza che io possiedo ovviamente perché l'ho studiata molto e tutti tutti riconoscono in lui il vero martin tutti anche la moglie addirittura lo pseudo martin chiamiamolo così perché poi ovviamente si scopre che non era il vero martin era arnaudito io e la moglie lo riconosce appunto e a tutti gli altri ma compresa la moglie ricorda dei particolari e di cui gli altri si erano dimenticati quindi la controprova era la sua memoria così precisa tanto da indurre tutti a riconoscerlo addirittura la moglie questo è un particolare su cui sciascia si soffermerà molto nel commento di cui ve riferivo prima ricorderà quelle 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 braghe di tela bianca riposte nella cassa panca lasciate nella cassa panca poco prima di fuggire di andarsene quindi diciamo che tutto il contesto sociale la collettività lo riconosce come martinger finché all'improvviso ci sono varie tappe adesso ve le salto perché sennò starete tutto pomeriggio a raccontarvi questo processo a un certo punto l'evre martin il vero martin ritorna ritorna zoppo con una gamba di legno allora c'è una sorta di confronto quello che differiremo noi l'americana no vengono interrogati separatamente poi insieme la l'anomalia è che il falso aveva una memoria prodigiosa una memoria che fu definita ipertrofica l'altro quello che era il vero martin o riconosciuto come tale perché poi tutti riconobbero nell'ultimo venuto il vero martin chi era riconosciuto come vero martin non si ricordava nulla e a tutte le domande dei giudici rispondeva non so forse non ricordo quindi abbiamo un falso con un diciamo un coagulo cristalli di sapere di notizie verificate reali e un vero completamente smemorato dunque visto che ormai si era deciso perché tutta la collettività aveva riconosciuto gli stessi che avevano riconosciuto il primo come il vero riconosceranno il secondo come il vero l'opinione pubblica la volubilità dell'opinione pubblica e dei testimoni veramente ce ne sono sempre scampoli in ogni situazione allora siccome tutti avevano deciso che il vero era l'ultimo venuto e allora hanno deciso che il primo fosse negromanciano cioè fosse mago perché non era possibile che un essere umano che era falso sapesse tutte quelle cose avesse una memoria così prodigiosa la cosa più curiosa dice la sentenza dice furono tutti giudici in grande perplessità non sapevano come comportare perplexite e questa la parola guida di tutta la sentenza perplexite la perplessità che avrebbe dovuti fargli astenere dal giudizio non mandare a morte di tu io astenere dal giudizio con l'adozione di un pensiero scettico perché poi lo scetticismo viene connetato anche con perplessità è una delle altre connotazioni che si affibiano sempre affibiano sempre allo scetticismo dunque cosa come ci si doveva comportare dice montaigne di fronte a una situazione simile ah no scusate ho saltato un piccolo passaggio vi chiedo scusa questa accusa però di essere mago quindi negromancien non compare però tra i capi d'accusa cioè nei capi d'accusa della sentenza la cosa più strana è che vengono indicati tutti cioè il fatto di sostituzione di persona di ladrocino il fatto che abbia adulterio perché sarà messo con la moglie di un altro ci sono tutti non c'è l'accusa di magia ma leggendo la sentenza e tutti i critici sono d'accordo ma montaigne stesso lo dice poi vi ripeto la frase così registrate meglio montaigne stesso è convinto che per questo sospetto che lui viene mandato viene fatto morire perché hanno cercato di farlo passare sospettando che fosse un mago anche se non lo scrivono tant'è vero montaigne dice la corte era in grande perplessità a te quello che io di cui sono molto stupito è che jean de corasse che era il giudice il primo giudice al processo che era un uomo illuminatissimo era un grande magistrato che fu messo a rogo lui stesso dopo perché era uonotto era protestante subì una fine proprio ingrata ingrata dice montaigne quel giudice ha coperto la sentenza proprio lui che era un uomo così illuminato pena di miracoloso di eventi prodigiosi di cose che non si capivano come se volesse accreditare l'immagine che arnauditui il primo venuto fosse veramente mago montaigne aggiunge la corte avrebbe detto avrebbe dovuto dire non ci capisco niente e sospende la sentenza invece con una chiarezza assolutamente non luminosa arnauditui fu mandata a morte e questo questo episodio importante per farci capire quando la ragione umana erri è erri appunto sbagli è anche come dire una specie di escamotage perché montaigne scagliasse il suo attacco appunto contro la pena di morte insomma in pochi lo sanno ma è la prima come posizione storica è proprio questa di montaigne quindi immaginate in questa cornucopia che la filosofia di montaigne quanto sguardo critico c'è sul rispetto al rinascimento che ormai naturalmente stava un po verso il proprio autunno ma che sguardo rinnovato che potenza del pensiero ha avuto questo autore che ci sembra non contemporaneo contemporaneissimo e chi ha la fortuna di studiarlo veramente secondo me si deve ritenere molto fortunato e quindi per riprendere la nostra indagine il potere della psicosomatica l'abbiamo detto e naturalmente anche il concetto di mostro così chiudiamo un po il cerchio naturalmente montaigne uno di quei concetti che attacca di più il concetto di mostrosità o il concetto di mostro secondo la definizione classica chi è il mostro il mostro è colui che è contro le regole della natura un mostro c'è un bambino mostruoso per esempio così lo chiamavano c'erano dei repertori ricchissimi al proprio tempo c'era buastio che aveva scritto appunto dei repertori proprio sui bambini mostruosi o sui mostri cioè riproducevano le figie facevano dei disegni di questi corpi mostruosi poi davano la spiegazione anche medica ma l'idea principe da cui l'idea classica della mostruosità prendeva le mosse era appunto che la mostruosità fosse contro natura contro le regole della natura però a ben vedere già aristotele nella degenerazione animalium aveva detto per la natura per lo più non aveva detto per la natura in assoluto come faranno alcuni filosofi del rinascimento aveva detto per lo più e questo piccolo particolare forse era stato messo troppo tra parentesi montegno ovviamente non accetta questo presupposto per i motivi che vi dicevo perché dalla sua angolatura tutto è secondo natura anche la cosa più bizzarra perché siamo noi che la vediamo bizzarra in realtà è una forma ve lo dicevo prima delle infinita proliferazioni vicissitudini della natura la natura conosce un'infinità di forme che l'uomo non comprende ma non le possiamo chiamare mostruose solo per il fatto che non le comprendiamo come succede come i selvaggi del nuovo mondo che li chiamiamo mostruosi e li mettiamo nel repertorio dei mostri tutto succede secondo natura che è una vicissitudine e moltiplicazione di forme montegno si rifanca agostino di pona dice agostino l'aveva capito tutto avviene secondo natura dobbiamo sforzarci a comprendere e ci porta l'esempio in un piccolo saggio al di là del discorso che farà sui selvaggi in un piccolo saggio ci porterà l'esempio di un cosiddetto fanciullo mostruoso è un saggio molto piccolo mai carico di importanza perché lega appunto l'immaginazione al problema della conoscenza la politica la storia è un saggio emblematico in questa direzione e ve ne voglio un po parlare dunque in questo saggio intitolato di un fanciullo mostruoso uno si potrebbe anche un po meravigliarci come montegni che attacca il concetto di mostro poi mi scrive un saggio un capitolo intitolato il fanciullo mostruoso si lo scrive adesso capiremo perché lo scrive dunque all'inizio ci parla di questo bambino fatto con due test un corpo solo un bambino anomalo diciamo così tra virgolette tanto per capirci e ci dice di questo bambino che viene portato per prendere dei soldi in giro per la città dalla nutrice da un altro uomo ci dà delle delle indicazioni esterne poi a un certo punto si sofferma sul concetto di mostro e qui monten ci dice qualcosa di più e ci fa capire come mai questo bambino è rimasto sin dal titolo un bambino mostruoso e non ha cancellato questo aggettivo che non è in consonanza con quello che abbiamo detto fino adesso sembrava una contraddizione capiamo perché non è una contraddizione perché capiamo che qui montegni pur ripudiando ovviamente l'idea del mostro come abbiamo detto l'idea di essere qualcosa contro natura è un'idea che non esiste una contraddizione in termini per montegni perché tutto è secondo natura quindi niente è contro natura niente è chiaro che pur ripudiando questa visione classica della mostruosità ce ne inoltre ce ne porta ce ne convoglia ce ne presenta un'altra altrettanto classica ma che è stata sempre messa un po' tacere che di cui non si valevano non si facevano valere i presupposti perché era l'altra che era emergente e qual era questo concetto su cui montegni faleva adesso che acquista una valenza ripeto ignosologica morale anche storica è una proprio il valore etimologico della parola mostrum dice montegni mostrum viene da mostrare e cosa capiamo noi capiamo che questo mostrum cioè questo bambino è un segno perché mostrum viene da mostrare vuol dire indicare accennare quindi questo bambino è un cenno è un accenno è un segno di qualcosa e segno di che secondo montegni potrebbe essere un segno della possibilità dice invece di vedere lui una cosa contro natura cerchiamo di sforzarci sforzarci a inquadrare la questione da quest'altro punto di vista cioè un segno della possibilità per esempio dice montegni questo piccolo bambino potrebbe rappresentare un segno per il principe proprio guardando questo corpo fatto da due praticamente da due corpi da da due da due bambini usiamo così l'espressione per intenderci questo corpo doppio che però convive pacificamente una parte convive pacificamente con l'altra quindi il segno di questo corpo doppio potrebbe servire da segno quindi da presagio da indicazione da ammonimento al principe perché nello stato le due parti che lottano sempre tra di loro i cattolici e protestanti esattamente come nel corpo del bambino mostruoso nel senso che l'abbiamo detto che è indicativo che indica possano convivere in pace questo questo corpo del bambino diventa un presagio politico un mostrare politico una possibilità per la società di rigenerarsi che il principe riesca a leggere questo nel corpo del bambino mostruoso non il fatto che sia un mostro ma che sia un segno di qualcos'altro cioè il segno della possibilità cioè come in un bambino mostruoso convivono parti in armonia così nel nostro corpo sociale nostro stato queste due fazioni che sono in guerra civile in eterna lotta tra di loro che possano vivere in pace perché ve lo dicevo il problema della pace della guerra è un po molto sentito da montegno quindi è molto permeato questo è uno dei testi più suggestivi piccolissimo sarà una pagina una pagina e qualche riga in cui montegno proprio ci consegna la forza della suggestione anche della novità se volete anche della novità perché vedere due due fazioni vivere in pace sarebbe il nuovo lo sguardo nuovo per una nuova umanità perché una nuova umanità può nascere solo sul sul presupposto della pace e della tolleranza nessuna nuova umanità può nascere sul vecchio sul vecchio e su e sulla presunzione di una ragione idolatra che pensa a autocelebrare se stessa e quindi certamente lo capite bene si tratta di una sfida che lancia al pensiero del rinascimento ma anche al pensiero futuro a una filosofia che non non è naturalmente una filosofia scolastica l'avete capito subito che proprio completamente è piena di vita tant'è vero che almeno due due definizioni di filosofia montegno da esemplari che proprio dobbiamo osservarci nel cuore cioè uno la filosofia dice montegno è arte della vita è arte di vivere due è formatrice del giudizio e dei costumi quindi della morale questa è la filosofia le due accezioni ne dà anche qualcun'altra ma le due accezioni principi più importanti che montegno esibisce della filosofia è quella di essere arte di vivere e di essere formatrice del giudizio e dei costumi e quindi formazione del giudizio e dei costumi della mente e della morale quindi è ovvio che l'unico modo è uscire l'abbiamo appena detto ma lo ripetiamo l'intelletto dal sonno dogmatico dalle dande del potere che con la sua complessa fenomenologia ci rende inebetiti e montegno dice odio la tirannia è attiva e passiva perché la tirannia si presenta come ci ha dimostrato e ti rende la boisi nel suo pamflet la serbitù volontaria sotto molteplici forme tanto da indurre noi a diventare dei servi volontari la tesi di fondo qual è di questo testo di la boisi perché mi avvicino in maniera pericolosa anche perché voglio lasciare a voi la parola che mi sembra più giusto qual è la tesi di fondo che il potere non si costituisce con la forza ma siamo noi con il consenso costituiamo il potere la servitù volontaria fondamento del potere e guardate che è un ribaltamento assiologico totale di tutte le teorie politiche montegno scrive la boisi scusate scrive questo pamflet prima del 1550 quindi siamo proprio in un'epoca e nessuno l'aveva mai detto cioè c'è un ribaltamento assiologico della formazione del potere il potere in tutte le teorie del potere politiche discendente dall'alto va al basso mai che dal basso va verso l'alto noi diventiamo servi volontari perché siamo noi gli diamo il consenso e quindi diceva se questo consenso che noi creiamo crea poi la tirannide che non ci fa vivere ci rende degli allenati ci toglie l'autonomia del pensiero ci rende dice come buoi al macello se succede questo e nessuno se ne accorge perché per mai ormai viviamo nella consuetudine della tirannia sotto molteplici forme si presenta se solo alcuni i più illuminati e qui nasce una sorta di archeologia cinquecentesca di filosofia della storia se qualcuno qualche illuminato ha mantenuto dentro di sé la potenza di vedere il male delle nostre società e deve cercare un po di svegliare questi popoli che sono inebetiti e allora però c'è un solo mezzo bisogna rinconquistare questa libertà che è tipica della natura umana l'uomo nasce libero e dappertutto è in catene dice la boesi vedi caso questa è la prima frase del del contratto sociale di rousseau l'uomo nasce libero ma dappertutto è in catene e allora come si fa a riconquistare la libertà siccome il potere è volontario nel senso siamo noi che abbiamo dato il consenso dice non ubbidite più e il colosso crollerà non predica la resistenza attiva la tirana non ci prendete le armi la resistenza attiva sapete che c'è un grande dibattito nel rinascimento tra resistenza attiva e resistenza passiva lui predica la resistenza passiva la non ubbidienza dice non ubbidite più il colosso creerà perché il potere è un colosso dai piedi d'argilla voi togliete il consenso il potere crolla e naturalmente montaigne che era amico intimo di la boesi che l'assiste quando muore tre giorni di agonia ci parla di questa agonia terribile di la boesi tre giorni in una lettera al padre è una lettera straziante bellissima in cui montaigne narra tutti i minuti di questa morte che alcuni hanno peraltro voluto vedere simile a quella del cristo e sono suggestioni un po letterarie non so non saprei o la morte del saggio a me sembra solo una una morte umana troppo umana quella di la boesi quando la boesi lo prega prega il suo amico di dargli un posto dice dammi un posto mon ami mon ami donne moi in plus e montaigne non capisce che cosa vuoi dire poi capirà dopo lui voleva dirgli io ho scritto la servitù volontaria pubblica la perché io non ho fatto in tempo a pubblicarla perché esce posto ma montaigne non pubblicherà mai la servitù volontaria nel 1570 va a parigi pubblica tutta l'opera di la boesi meno la servitù volontaria ma si giustifica dice la stagione è troppo pesante l'aria è troppo difficile cioè era pericoloso pubblicare un pamphlet come quello cioè l'avrebbero perché peraltro qualche tempo dopo 1578 mi pare fu bruciata in place de l'ombriere a bordeaux dove sono andati in pellegrinaggio almeno per vedere un po questi misfatti umani a plaza fu bruciata perché se ne erano appropriati gli ugonotti calvinisti l'avevano fatto passare come un luterano come come un protestante quindi era diventata veramente un'opera pericolosa ma già montaigne l'aveva capito quindi non la pubblicherà mai quando scrive saggi nel capitolo 1 28 dedicata all'amicizia dove peraltro c'è tutto un discorso sulla valore politico dell'amicizia c'è una politicità dell'amicizia mi dispiace spero che venga fuori durante il dibattito ma non riesco proprio a spiegarvelo e montaigne cercherà in tutti i modi e in tutte le salse dirà io adesso lo metto qui poi dice no non lo posso mettere cioè c'è tutto una una sorta di 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 occultamento ma per poterla salvare questa servitù volontaria perché in effetti la leggevano alla tv alla scusate al radio londra durante il nazifascismo è la servitù volontaria di la boesi come salvaguarda della libertà contro la tirana leggevano a radio londra se voi andate a vedere rimane qualche qualche esemplare durante il nazismo c'è il timbro separata cioè non si può leggere tra libri provviti insieme a marx e maimoni della boesi perché era un pensiero pericoloso quindi si capisce che il povero montaigne abbia avuto un po paura a pubblicare questo pamflet che diceva il re nudo lo diceva sotto un altro sguardo ma diceva il re nudo quanto tempo ciò finito si adesso tocca a voi concludo un po poi parliamo tra di noi e così che deve andare così mi hanno detto che dovrebbe andare facciamo una conversazione come volete adesso concludo un po vi do qualche altra idea di no di chiusura dei nostri presupposti io avevo qui un mucchio di roba ma comunque e quindi dicevamo ecco questo tentativo di montaigne è anche quello di far uscire la ragione questo è importante acquista proprio una pregnanza contemporanea di far uscire la ragione da quello che montaigne fa intendere come un cattivo universalismo no che è quello dell'eurocentrismo l'eurocentrismo che vuole esportare diciamo prima la vera ragione la vera la vera religione la vera verità che quella proprio erocentrica montaigne ha paura di questo concetto di questo universalismo di questo cattivo universale dice cattivo nel senso latino del captivus ovviamente come avete bene bene inteso e quindi diciamo così guarda appunto forte dello suo scetticismo e dello sguardo plurale alla positività dell'alterità e alla positività della diversità e sotto l'esigenza di capire di comprendere la diversità noi troviamo diverse figure filosofiche ma anche sociali perché l'alterità presenta tantissime forme come per esempio i selvaggi come per esempio gli ebrei come per esempio i turchi che naturalmente servono da fonte di riflessione per la filosofia di montaigne però adesso poi concludo c'è un'altra idea importante che dobbiamo raccogliere da montaigne e portarla nel nostro cuore serbarla portarla con noi che è l'idea certo di una ragione abbiamo detto non dogmatica ma una ragione che deve fare uso dello scetticismo delle armi dello scetticismo uno scetticismo sano non nichilista di una ragione che a suo modo deve essere generosa perché dice montaigne esiste una ignoranza generosa come una scienza generosa l'ignoranza generosa quella che si deve costruire sul presupposto della nostra debolezza ontologica della ragione però c'è un'altra immagine perché che emerge che è quella di una ragione che montaigne vuole essere critica montaigne non usa questa espressione critica lo capite è una come dire è una espressione nostra che affibbiamo ma ci dà il concetto e pensate un po' è un concetto che montaigne mutua proprio dalla filosofia italiana dalla filosofia del rinascimento italiano ma soprattutto da un autore da un autore che si chiama Stefano Guazzo che aveva scritto un libro importantissimo intitolato la civil conversazione e in questo testo la civil conversazione dove l'idea principale è che l'uomo è essenzialmente discorso l'uomo è un uomo di parole e quindi la menzogna è un vizio morale enorme ma anche le regole della civil conversazione sono regole morali perché noi diciamo dobbiamo parlare tutti a turno uno per uno pensiamo solo che noi da di bontoni invece no è una regola morale perché l'uomo è discorso l'uomo è parola se tu non permetti di parlare all'altro uomo lo neghi nella sua natura ontologica di essere discorso quindi commette una sorta di di peccato su di lui peccato in senso laico ovviamente avete inteso quindi bisogna stare molto attenti perché dietro questo continente della civil conversazione in realtà c'è tutto il metodo della filosofia adesso questo lasciamo la parte comunque Guazzo aveva elaborato un'idea della ragione da cui Montegno trarrà tutte le conseguenze e la rilancerà negli esseri cioè la nostra ragione deve essere un cribro uno staccio lo staccio delle nostre nonne voi siete non lo so forse sì l'avete visto quello della farina una volta c'erano gli stacci in cui passava la farina il cribro questo deve essere la ragione deve vagliare deve criticare deve dice Montegno pensé pensé pensare che vuol dire pesare gli argomenti pesarli uno ad uno Montegno lo chiamerà le tamine della raison le tamine e lo staccio ma l'immagine era già presente in quest'autore italiano che si chiama Stefano Guazzo quindi l'unico concetto di ragione che Montegno ci consegna è questo di una ragione critica che deve fare uso di tutte le armi della critica e tutte le armi che servono alla formazione dell'intelletto e dei costumi quindi del nostro potere di conoscenza che è comunque limitato e della nostra moralità perché non è un caso che Montegno viene annoverato anche tra i filosofi morali più degni di essere citato io ho finito adesso sentiamo voi se vi è incuriosito qualcosa se devo approfondire qualcosa qualcosa l'ho accennato non l'ho potuto dire perché tempo purtroppo è quello che è è una visione un po' nuova di Montegno voi dovete poi tornare a scuola ovviamente è una visione completamente diversa rispetto ai testi scolastici non ne parliamo proprio ma anche certi testi un po' d'uso insomma ci restituiscono immagini imposte e rotipata di Montegno che se ne sta nella torre e scrive si separa dal mondo e scrive i suoi pensieri niente di più falso e di più sciocco perché è vero che Montegno stava per lungo tempo nella torre però Montegno ha fatto il sindaco di Bordeaux due anni è venuto in Italia anche con mandati probabilmente politici è uscito dalla torre tutte le volte che voleva e era sì il suo spazio delfico il suo spazio di riflessione ma certamente non si può dire di Montegno che fosse un pensatore disangagé cioè disimpegnato non è così perché voi se questo ovviamente penso che lo sappiate scusate l'espressione mi è venuta un'espressione un po' brutta un po' impropria volevo dire lo insegnate quindi l'immagine dello scetticismo spesso è legata all'idea che lo scetticismo comporti un disimpegno disimpegno della vita disimpegno della politica tant'è vero che tutte le volte che si parla di Pirrone di Oggene Laersio che è uno dei biografi vi ricordate le vite dei filosofi ce lo dipinge come un filosofo che naturalmente sospendendo sempre la conoscenza figlio del dubbio e dell'apparenza in senso ciò che appare se ne va incontro ai carri cade nei pozzi non è così Montaigne rettifica già Montaigne rettifica questa immagine e dirà non è affatto così lo scetticismo implica anche un impegno nei confronti della vita attiva ma l'aveva già detto Plutarco molto bene che aveva parlato dello scetticismo come una sorta di medusa paralizzante come lo scetticismo paralizzasse per l'azione pratica non è affatto così l'adozione ad un pensiero critico che sicuramente è preferibile sicuramente preferibile all'intolleranza di qualsiasi forma di certezza e di certezza della certezza come diceva come diceva Nice pensando alla critica che Montaigne rivolgeva rivolgeva al principio di certezza scusate avevo promesso di far parlare voi poi sì benissimo sì ecco diciamo che fa una sorta di combinazione in questo caso di temi classici e in particolare c'è una ripresa anche ovviamente di Aristotele dell'etica nicomachea non può che non essere così c'è di amicizia di Cerone l'Elius di amicizia c'è ovviamente Picuro ma c'è anche Aristotele l'etica nicomachea appunto quei capitoletti l'ottavo e anche altri dedicati proprio all'amicizia e qui la ringrazio della domanda perché mi dà la possibilità di sviluppare un tema che vi ho completamente messo da parte mi scuso ma non è colpa mia perché c'è un apporto specifico biografico teorico e pratico da parte di Montegni allora dovremmo ricostruire un piccolo mosaico innanzitutto c'è un modello di amicizia che Montegni legge come un modello di amicizia perfetta perché in un primo momento appunto nel capitolo sull'amicizia che è il 28esimo nel primo libro Montegni prende le mosse dall'amicizia perfetta cioè dice che l'amicizia è una cosa secondo natura perché l'uomo è animale amichevole quindi politico eccetera eccetera e dice che però bisogna distinguere tra le amicizie comuni le amicizie che vengono fatte per fini per il benessere individuale oppure per fini utilitaristici e invece un altro tipo di amicizia che è rara rarissima che tuttavia è l'amicizia perfetta l'amicizia perfetta che Montegni dice proprio sulla scorta di Aristotele può esistere tra due cioè il numero dell'amicizia perfetta sarebbe rintracciabile nel numero due cioè solo due amici possono costruire un'amicizia perfetta lui ha un modello preciso lo dicevamo prima c'è un'amicizia che lui stesso ha praticato sulla sua pelle e l'amicizia con il suo amico la Boissy che descrive descrive in maniera molto precisa in questo saggio ci canta le sue doti ci dice soprattutto connota un aspetto di questa amicizia e vedremo che poi la ripetizione è sempre nella stessa area tematica la connota con una quasi sinestesia cioè con un vocabolario che dovrebbe farci come dire riflettere e metterci un po' sull'avviso perché poi vedremo alla fine che questo capitolo deve essere letto non più tanto da solo ma deve essere letto in relazione a un altro capitolo importante che è proprio quello su Selvaggi 1.31 e poi vi spiegherò perché quindi in questa amicizia tra due letta tra due è un'amicizia in cui dice Montegne tutto è in comune non c'è nel mio nel tuo c'è la volontà comune c'è l'accordo delle volontà ma diciamo caratterizzazione di questo tipo ce ne sono anche altre io per non cioè per potervi dire anche quello che viene dopo vi vorrei far soffermare solo su questi quattro volontà comune accordo delle volontà assenza di mio e tuo è qualcosa che un pochino già deve come dire metterci quasi allerta userei questa parola un po' volgare ma insomma che rende l'idea cioè vediamo che la finalità non è solo quella del godimento di un'amicizia tra due cioè volontà comune assenza di mio e tuo volontà comune sovranità assoluta anzi dirà antut sovranete sovranità assoluta noi che abbiamo studiato anche chi viene dopo capiamo bene che questo modo di connotare sembra sentire una eco diciamo o sarà la eco o sarà una ripresa da parte di qualcun altro per esempio da parte di Rousseau che userà questa terminologia che Montegni affibbia agli amici veri cioè agli amici perfetti a due a una situazione più generale cioè la comunità la volontà comune la sovranità assoluta questo lo conoscete è un lessico politico chi meglio di voi che insegnate a scuola quando parlate di Jean-Claude Rousseau il contratto sociale è inevitabile quindi qui connotare l'amicizia con queste aggettivazioni per uno spirito che sa leggere per un suffisant lecteur come direbbe Montegni un lettore pespicace perché lui diceva mi ci vuole ci vuole per gli scrittori solidi un lettore pespicace un lettore che le sappia leggere perché si mettono qua e là delle spie è come se Montegni volesse connotare ve la faccio breve questa amicizia già con un valore politico cioè è come se volesse dire che questa amicizia potrebbe avere un valore politico tranne che però è tra due quindi il fatto che sia tra due escluderebbe sembrerebbe escludere la possibilità c'è il problema sarà superato da Rousseau che parlerà vi ricordate bene di io comune io comune esattamente quello che ha detto Montaigne io comune moi comune ma se noi andiamo avanti nella lettura di questo capitolo sull'amicizia che ripeto coniuga diversi diversi filosofi ci accorciamo di che cosa ci accorciamo che Montaigne quasi a un passant quasi col metodo silenico quasi dicendo e non dicendo a un certo punto quasi verso la chiusura del saggio dice due cose fondamentali di una di un'importanza veramente fondamentale dice sarebbe dice sì è molto raro che un'amicizia simile possa avverarsi no? perché è difficile poi sono interessi privati eccetera dice però sarebbe avrebbe quasi dell'incredibile che si potesse moltiplicare questa amicizia tra due che è amicizia una e unita attenzione questi aggettivi con cui connota il termine amicizia una e unita sarebbe veramente una cosa quasi da sogno poter moltiplicare questa amicizia tra due una e unita lui dice anconfrerie inconfraternita che cosa vuol dire questo? vuol dire che sarebbe veramente qualcosa di auspicabile ma difficilissimo difficilissimo che questa amicizia il modello dell'amicizia tra due in cui l'amicizia è tutta una e unita una e unita cioè sono come una cosa sola moi commune io comune dire russo si potesse moltiplicare in una confraternita cioè una società più ampia quindi che questa diciamo idea di un'amicizia tra due divenisse la cellula di una sua possibilità di essere moltiplicata in una confraternita quindi la cellula sociale di una società diversa perché gli amici hanno la volontà in comune non hanno né mio né tuo la loro è una volontà generale che vale su certi presupposti quindi diciamo la la pseudo critica che io ho fatto che era funzionale alla fine è una critica che si vanifica perché Montaigne vede prima sembra escluderlo come ha fatto Aristotele perché Aristotele dice solo tra due può essere l'amicizia perfetta tra tre non è possibile molte dice come sarebbe bello moltiplicarlo tra due tre e fare una confraternita sarebbe veramente una società diversa diciamo che la critica non ha tanto messo in evidenza questo aspetto perché è più sfuggito è più sfuggito perché purtroppo anche gli studiosi acuti a volte sono i più interessati a determinati aspetti ma non doveva sfuggire proprio perché questa lettura è autorizzata dall'altro saggio che tutto è dedicato appunto alla comunità selvaggia cioè l'assetto al modo di vita comunitario dei selvaggi d'America che ci induce a delle riflessioni notevoli perché nel momento in cui Montaigne ci fa capire che non sono mostri ma sono uomini come noi anzi meglio di noi anzi sono come gli antichi filosofi che hanno saputo ben morire quindi anche i cannibali danno degli esempi di grandissima moralità perché sanno morire bene eccetera quando ci dice questo a un certo punto ci parla anche delle caratteristiche della loro comunità e con quella che ho chiamato abbiamo chiamato retorica della negazione dice non è che dice la società cannibale dei selvaggi è caratterizzata da questo dice non c'è non c'è non c'è quindi retorica della negazione cioè Montaigne vede che la comunità selvaggia nega tutti i segni della società civile moderna non c'è mio e tuo non c'è usanza di servitù e di padronanza non c'è la politica come la intendiamo noi non c'è la figura del magistrato non c'è non c'è è un lunghissimo elenco non c'è menzogna non c'è bugia non c'è simulazione non c'è è un elenco infinito che è tutto diciamo in contrapposizione a quello che invece c'è nella società civile moderna quindi questi due capitoli sono strettamente connessi vanno letti entrambi con uno sguardo politico il primo l'amicizia perfetta come cellula di un'ipotetica società a venire il secondo come qualcosa che già c'è è secondo natura è nel nuovo mondo solo che noi civilizzati eurocentrici e naturalmente ciechi abbiamo scambiato quel mondo come un mondo selvaggio anzi un mondo barbarico un mondo contrario ha la ragione esattamente l'opposto loro vivono secondo ragione nel fondo natura e quindi qui assistiamo anche a questo chiasmo barbari selvaggi selvaggi e barbari e una relativizzazione dei concetti quindi questo saggio dell'amicizia fatto bene a parlarne perché è proprio veramente fondamentale cioè acquisisce le fonti però le supera perché lui c'è un'altra fonte e la fonte sua vera quella che lo ha spinto in questa direzione è proprio il pamphlet di Etienne de la Boesie cioè questo saggio che vi pregherei di leggere lo trovate in tutte le librerie intitolato la servitù volontaria perché c'è una pagina in cui la Boesie ci parla delle origini delle origini diciamo dell'umanità quando l'umanità vive in pace quando gli uomini in questa visione un po' edenica quando gli uomini erano tutti fratelli tra di loro eccetera e sapete come connoterà lo connoterà con l'espressione gli uomini erano tutti un e uniti dirà quindi l'immagine al plurale diventa singolare in Montaigne e questa idea della fratellanza dice dove gli uomini sono stati messi insieme diversi tra di loro non completamente uguali diversi con specificità naturali diverse però questi uomini possono è un disegno della natura perché così quello che manca all'uno glielo dall'altro e c'è la reciprocità e lo scambio dei doni allora questa idea della disparità nella natura della natura o dei doni naturali guardate che anche Rousseau ce lo diceva ma lo riconoscerà appunto cioè non ci parla di un'uguaglianza assoluta non può essere così ci parla di un'uguale inuguaglianza cioè Rousseau non è così sciocco da dire gli uomini nascono sin dai primordi esattamente uguale cioè più intelligente meno bello più forte chiaro questa è una disparità naturale che però in tutti i nostri filosofi è uguale il pensiero non deve dare adito a una disparità sociale è qui il passaggio noi siamo diversi naturalmente certo però questa diversità ci aiuta a incontrarci quando poi questa diversità diventa il pretesto per la disuguaglianza o la diversità sociale allora su questo terreno i nostri autori non seguono più questo modo di procedere e che sia così lo dice proprio la fine la conclusione del De Cannibal cioè questo saggio questo capitolo sui selvaggi che è il trentunesimo del libro primo quando Montaigne ci racconta una cosa molto divertente fino adesso ci aveva sempre parlato di noi che siamo andati presso di loro noi purtroppo spagnoli portoghesi a portare il genocidio la morte eccetera cioè noi che abbiamo guardato l'altro e l'abbiamo giudicato male adesso invece Montaigne alla fine di Cannibal ci inverte lo sguardo cioè gli altri che guardano noi e ci ricorda pare che sia vero perché sono in cronache dell'epoca attestate che alcuni di loro cioè di questi selvaggi furono portati in Francia sotto il regno di Carlo IX a Rouen e fu chiesto loro tramite un interprete ovviamente fu chiesto loro che cosa ne pensassero di quello che stavano vedendo dice dettero tre risposte una non me ne ricordo dice Montaigne però me ne ricordo due ne dice una che è meno importante poi la seconda vedrete che peso che ha dice la prima risposero che erano molto stupiti che uomini anziani con la barba ubbidissero un fanciullo perché voi sapete che Carlo IX era ancora un bambino c'era la rigenza di Caterina de' Medici dell'italien lo odiavano i francesi Caterina la chiamavano l'italien ce l'avevano proprio moltissimo e quindi dice che uomini con la barba anziani ubbidissero un fanciullo una cosa strana da loro non esisteva perché solo la vecchiaia era venerabile cioè si andava a prendere consiglio dai saggi e non viceversa dai fanciulli ma poi un'altra cosa e questa è veramente una cosa fortissima dice si meravigliano anche che alcuni dice poi apre parentesi scrive Montegne le metà bisognose le metà bisognose fossero come dire rese tali bisognose quindi bisognose quindi necessitose necessitanti di qualcosa da altri uomini da parte di altri uomini tanto da renderle metà bisognose dice a loro sembrava una cosa cioè il fatto che esistesse la povertà per farla molto breve a loro sembrava una cosa talmente mai vista e non considerata perché presso di loro la parola uomo dice Montegne vuol dire significa essere l'uno la metà degli altri e quindi erano stupefatti nel vedere uomini poveri ed altri ricchi con delle ricchezze che arrivavano sino alla gola e gli altri morire mendicanti alle loro porte cioè che qualcuno potesse rendere le proprie metà metà bisognose metà necessitose dice Montegne questo era completamente sconvolgente perché per i selvaggi uomo vuol dire essere l'uno la metà dell'altro ma dire questo vuol dire che l'uomo è uguale all'altro quindi questo vuol dire che l'uguaglianza è di natura è questo che ci dice Montegne è la disuguaglianza sociale che appare strana quindi mostruosa all'occhio dell'altro che ci guarda e Montegne si meravigliarono al punto da dire che appunto era abbastanza strano che i poveri non prendessero i ricchi per la gola o appiccassero appiccassero scusate il fuoco alle loro case allora se questa è la vera voce dei cannibali non lo sappiamo se è vero che questo selvaggio d'America ha protestato così forte l'uguaglianza umana non lo sappiamo ma la filologia cannibale per la filologia cannibale essere uomo significa la metà dell'altro qualcuno ha ipotizzato certo che questo cannibale eloquente è Montegne stesso cioè Montegne che mette nascondendosi dietro la natura dietro il cannibale venuto presso di noi nascondendosi diciamo svela il suo proprio pensiero e questo però ci fa fare un passo avanti perché Montegne che viene sempre d'impinto come l'equilibrato il conservatore eccetera eccetera qui si mostra più radicale di la Boissy perché la Boissy predica la resistenza passiva cioè dice non servite più e il colosso crollerà qui invece Montegne pur nascondendosi sotto l'involucro del cannibale eloquente il cannibale che parla sta parlando di resistenza attiva prendeteli alla gola e appiccicate il fuoco alle loro case perché la disuguaglianza sociale è troppo grossa naturalmente è un grido di dolore è un grido di dolore chiaro è diciamo una sorta di di grande paradosso per svegliare le coscienze comunque questa è proprio la conclusione dei cannibali questo porta il saggio sull'amicizia e questo l'uguaglianza perché poi la Boissy l'aveva detto ma Montegne l'aveva detto è l'uguaglianza che connota l'amicizia diceva la Boissy l'amicizia ne cloche jamais non zoppica mai perché è sempre uno stato di uguaglianza l'uguaglianza è la parità delle condizioni quindi non c'è amicizia dove non c'è uguaglianza il tiranno dicevano tutti loro non avrà mai un amico perché è sempre al di sopra di tutti l'uguaglianza ne cloche jamais non zoppica mai al contrario della ragione che è la zoppa per eccellenza abbiamo parlato prima del saggio gli zoppi gli zoppi sono i giudici che mandano a morte senza la prova senza prove certe ma la zoppa per eccellenza è la ragione che è sempre claudicante perché non ha la certezza ontologicamente debole quindi sbaglia spessissimo e non si rende conto è la zoppa per eccellenza è la diciamo la cifra massima di un comportamento claudicante intollerante che pensa di essere giusto quindi insomma abbiamo materiale su cui riflettere sì c'è anche una conciliazione da questa in cui c'è una tradizione è che da un lato la ragione zoppa quindi c'è un criterio valutico e da un lato la ragione di vedere sopedale perché è che è no? certo 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 benissimo posso rispondere sì sì giusta l'osservazione è giustissima e diciamo che in questo caso c'è una una quasi una teoria mediana che le congiunge no? per risolvere l'apparente contraddizione e è un po' diciamo la posizione che Montaigne diciamo così studia e preleva da Plutarco perché naturalmente la teoria classica scettica è quella della purga scettica no? cioè la ragione si deve purgare deve mandare via tutte le presunzioni gli umori eccetera eccetera però osservava Plutarco questo procedimento è molto difficile bisogna stare molto attenti perché andando via i mali i cattivi umori la ragione viene espulsa con il male la purga scettica porta via la ragione quello che la ragione può tutto porta via il male e quello che la ragione ancora può perché il punto di vista di Montaigne è quello di una ragione che può poco ma qualcosa può esattamente come quella di Kant poteri e limiti cioè limitati ma non assoluti e allora Plutarco diceva no? la ragione va coltivata va sorvegliata il cribro no? deve sempre pesare soppesare ma va mantenuta dentro di noi tutta la vita e va curata tutta la vita e quindi questo passaggio di una ragione che deve essere capace di essere critica ma di diciamo così vagliare pensare pensare è una come dire una sorta di di addestramento continuo che naturalmente nega la nihilità di l'human condition nega lo scetticismo nichilista perché altrimenti cadremo in una contraddizione totale è se vogliamo dirlo una sorta di scetticismo costruttivo che vuol costruire pure su una critica aspra difficile che comunque cerca di dare una via curativa non simile ai purgativi che spellono ripeto ripetendo Plutarco e ripetendo Montaigne la ragione con il male ma la ragione la fanno stare dentro però la curano la cura di sé ci ricordiamo l'Alcibia De Primo Platone la cura di sé perché la ragione si deve curare tutta la vita perché la ragione è malata è presuntuosa quindi il punto il punto di passaggio è questo superamento da parte di Plutarco dello scetticismo classico e Montaigne lo studiava tantissimo Plutarco lo leggeva in greco ma lo leggeva anche nella traduzione di Amiù perché come insomma forse va bene era stato tradotto da Amiù e aveva fatto un'impresa enorme in una traduzione e per esempio un altro diciamo discorso che può come dire subito congiungersi con questo sempre attraverso la traduzione di Amiù è l'ultimo passo c'è un saggio lunghissimo nei saggi di Montaigne e dei sedi di Montaigne che si intitola Apologie de Raymond Sebon è il più lungo forse il più filosofico in cui Montaigne non per primo ma forse per secondo o per terzo fa una storia della filosofia perché voi sapete che la prima storia della filosofia l'ha fatta Aristotele poi di oggi nella Erzio e poi bisogna aspettare molto tempo per aspettare la storia della filosofia il primo libro della metafisica è una storia della filosofia un po' sui generis ma è un modo di fare la storia della filosofia che peraltro Montaigne critica perché dice è un modo di fare la storia della filosofia tribunalizia perché cosa aveva fatto Aristotele aveva analizzato tutte le filosofie precedenti e l'aveva ritenuta spero di Balbetti alla luce della sua che era la vera filosofia perché lui aveva analizzato tutte le cause e invece gli altri avevano analizzato cause parziali chi uno chi due chi tre quindi era una concezione tribunalizia del filosofale dice Montaigne però aveva parlato dei filosofi precedenti magari con dei giudizi come dire prodomo sua ma l'aveva fatto lo farà di oggi nella Erzio ma poi lo fa in parte Gianfrancesco Pico della Mirandola il nipote dell'altro Pico famosissimo ma lo fa Montaigne in questo saggio e quindi analizza la teoria degli scettici antichi dei dogmatici eccetera eccetera e conclude proprio con una sempre con Plutarco e con diciamo l'impossibilità della metafisica classica soprattutto l'ultima parte era sull'impossibilità di conoscere Dio tramite prove razionali perché Montaigne crede che gli oggetti della metafisica classica di animo e mondo non possono essere studiati scientificamente non esistono prove razionali che si possono esibire né che il fatto che Dio esista né che l'anima sia mortale e immortale né che questo sia l'unico dei mondi possibili mettere in crisi queste tre idee e in particolare sul fatto della divinità trascrive un lungo brano che ricopia da Mio che traduceva Plutarco dice non abbiamo nessuna a Mio traduceva correttamente dal greco partecipazione all'essere Montaigne correggeva e scriveva nessuna comunicazione con l'essere cioè con la divinità e quindi spostava tutto il discorso nell'ambito dell'ermeneutica faceva uno sforzo enorme cioè lasciava l'ambito ontologico per entrare in un altro ambito perché anche l'ambito del discorso è una delle vie di fuga che Montaigne si dà per poter uscire dalle secche altrimenti uno non potrebbe nemmeno parlare con uno scetticismo conseguente saremo tutti morti e muti invece l'uomo deve discorrere deve parlare deve confrontarsi diceva Montaigne deve limare il suo cervello con quello dell'altro perché non solo vuol dire pensare vuol dire pesare ma vuol dire anche conferre conferre portare argomenti e quindi confrontarsi con l'altro e quindi il discorso è l'arte anche della conversazione e quindi l'arte dell'incontro con l'altro e l'incontro con l'altro può essere un amico può essere un altro filosofo può essere anche però un selvaggio d'America l'incontro bisogna incontrarsi e di fatti nel saggio delle carrozze Montaigne si lamenterà che questo incontro con l'altro assoluto cioè con l'altro mondo sia avvenuto proprio tra noi contemporanei quando abbiamo portato noi tutti i mali li abbiamo contagiati dice Montaigne invece Alessandro Magno o gli antichi romani avrebbero potuto comunicare con loro con un travaso reciproco di valori loro avrebbero imparato da noi ma noi avremmo imparato da loro e qui c'è anche una riabilitazione della figura di Alessandro Magno che non è più quell'Alessandro conquistatore ma è un Alessandro che capisce la forza della diversità perché qui Montaigne fa leva su una letteratura minore che pure esisteva che fa leva sulla forza della diversità sulla forza del diverso appunto e non dice più ex occidente lux ma dice ex oriente lux la luce ci può venire anche dall'oriente quindi andiamo presso gli altri popoli e si andiamo presso di loro vabbè li abbiamo conquistati ma impariamo molto da loro e difatti tutti i costumi gli usi Alessandro Magno li lasciava tutti perché era un modo per imparare ex oriente lux quindi due due luoghi comuni che sono contrapposti e che vengono però rilanciati dispiace avremmo potuto vederci qualche altra volta ma se è finito vi libero grazie 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 a tutti